Salute a tutti, io mi narro Riccardo e oggi voglio fare in sardo, tanto, voglio fare questo video metà curto che sinceramente a come non ho pensato di narrare, ma oggi voglio fare un pacco a sopra della lingua e a sopra del dialetto che sto facendo a come. A come sei questionando in uno dialetto più o meno siniscoleso, che l'ho poi imparato da esso siniscoleso, ovviamente. È un pacco numeroso, fin, che sono numeroso che ho fatto la prima lingua che ho cercato, che ho provato a imparare. E te potuto narrare Debruso? Sardo questa è la lingua che mi piace Debruso, di tutte le lingue romanzo. È una lingua metà speciale per me, è una lingua che ha un sonno metà misterioso. Tanto invio un saluto a tutti gli altri che mi conoscete e a tutti gli altri altri. Voi senti su uno popolo un popolo metà un uomo, metà accolizzante, non mi ha dato molto più, ma questo è tutto. Grazie a tutti che mi hanno imparato parola, metà e tutto. Tanto, adios.